Cari amici e conterranei abruzzesi, un piccolo annuncio da Genova in questa triste emergenza sanitaria. Non uscite di casa, mi raccomando. È una norma basica molto importante. La distanza sociale è l'unica arma che abbiamo per combattere e debellare questo cattivo virus. Qui abbiamo persino, in caso di estrema emergenza a Genova, vicino casa mia, approntato una nave traghetto con circa 400 posti Covid-19. Vi dedico un piccolo pezzo di Schumann, un arabesco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.